Ben ritrovati amici di tuttandroid.net, siamo con Nexus 5, la nostra cavia per eccellenza, per andare a provare Flashfire, un'applicazione un po' particolare, è stata rilasciata proprio oggi in forma di beta sul Play Store da parte di un nome piuttosto noto in ambito modding, e cioè Chainfire, colui che sta dietro a SuperSoon, l'applicazione per la gestione dei diritti di root più famosa e più utilizzata in assoluto. Dunque andiamo ad aprire Flashfire, un'applicazione particolare perché fa un po' le veci di una custom recovery, con la differenza proprio che si può agire direttamente dal sistema senza dover installare una custom recovery. Ora per i dispositivi Nexus questo non so quanto potrebbe essere utile perché normalmente uno che va ad acquisire diritti di root, requisito necessario per poter utilizzare questa applicazione, normalmente dicevo avrà magari già installato anche una custom recovery, sbloccato il bootloader eccetera, però per altri brand questo potrebbe veramente far la differenza perché significa non dover andare a modificare troppo in profondità il sistema e però godere di tutte le funzionalità o tutte o quasi le funzionalità di una custom recovery come per esempio il backup oppure il flash di modifiche, ROM, kernel modificati eccetera. Dunque andiamo ad accettare il disclaimer, dunque questa è l'applicazione. Il material design come vedete osservato in tutte le sue regole è davvero molto bella. Sulla sinistra abbiamo il drawer di navigazione in cui abbiamo le sezioni dell'applicazione. Queste sono sezioni informative backup, partition e settings. Partiamo dai settings dove sono alcune impostazioni, l'invito a passare alla versione pro e la possibilità di andare a cancellare eventualmente la cache dell'applicazione. E poi la possibilità di andare a seguire Chainfire sui vari social. Lo sviluppatore ha detto che comunque le impostazioni verranno comunque molto arricchite nei prossimi aggiornamenti. Questa è proprio solamente una beta per far vedere un po' come funziona. Poi abbiamo partition che è appunto informativa sulle partizioni della memoria del dispositivo in uso. Quindi abbiamo primary bootloader, secondary, boot, recovery, system, data, cache, eccetera. E poi abbiamo backups, ora è bianca perché non ho creato ancora dei backup. Ed infine abbiamo action che è il vero cuore dell'applicazione dove ci sono tutte le varie operazioni che possiamo andare ad effettuare. Quali sono? Si mostrano toccando sul tasto fluttuante. Abbiamo la possibilità di creare backup, di ripristinarli, di andare a flashare un pacchetto firmware. E in questo caso si riferisce a un pacchetto firmware stock originale. Per esempio un update del brand originale del dispositivo che ha rilasciato un nuovo aggiornamento. Possiamo poi andare a flashare uno zip non ben specificato, qualsiasi, quindi una modifica, una ROM, un kernel, eccetera. Oppure anche un aggiornamento overday. E infine possiamo andare ad effettuare alcuni wipe. Partiamo proprio da qua. Possiamo andare a cancellare i dati di sistema, i dati delle applicazioni di terze parti, dal vcache, la memoria interna, SD card oppure quella emulata come nel caso dei dispositivi Nexus che non hanno l'espansione tramite microSD. E infine la cache partition. Davvero molto comoda questa cosa per quanto riguarda la manutenzione un po' del dispositivo. Infatti è buona pratica ogni tanto andare a ripristinare, a cancellare la cache sui dispositivi Android che come ben saprete dopo un po' di utilizzo a lungo andare si satura e va un po' a rallentare il sistema. Passiamo oltre, vediamo invece la sezione backup, anche questa molto interessante. Divisa in quattro. Normal, ID, Full, Arrow. In realtà in qualsiasi punto andiamo a toccare, veniamo rimandati sempre in questa schermata. La differenza è che per esempio per normal avrete già ceccate boot, system e data. Mentre invece se vado a selezionare per esempio ID, avremo selezionate le due partizioni che contengono i dati identificativi del dispositivo. A proposito, è molto comoda per esempio per i dispositivi Samsung che sono un po' soggetti a perdere i dati contenuti in queste partizioni andare ad effettuare un backup del ID, quindi EFS partition. Davvero molto più comoda rispetto a dover installare una recovery per poter effettuare il backup. Infine abbiamo anche RAW che è un formato grezzo di backup. Passiamo oltre, abbiamo il restore, qua potremo ripristinare i nostri backup. Abbiamo il flash firmware che ci manderà in una sorta di file manager in cui possiamo scegliere, esplorando la memoria interna, quali file andare ad inserire, ad installare come firmware package. Sì, questa si riferisce, come vi ho già detto, ai firmware ufficiali. Infine abbiamo flash zip or OTA. Allora, io vi dico già, vi anticipo che è già la terza volta che ripristino il Nexus 5 purtroppo, perché facendo varie prove in realtà a volte ha funzionato, a volte no, e a seconda delle modifiche che andiamo a selezionare ci possono essere dei problemi sotto questo punto di vista. Com'è possibile che installare un file direttamente dal sistema senza utilizzare una recovery? Beh, in realtà una recovery viene utilizzata, ma è una recovery temporanea che viene caricata momentaneamente sul sistema, sfruttata per andare a installare il file e poi cancellata dalla memoria. Quindi in realtà il funzionamento è sempre lo stesso, però in questo caso il tutto è molto più comodo. Facciamo una prova con un file zip, così vi faccio vedere, anzi, due file zip per due diverse possibilità. Cominciamo con questa che è una mod molto semplice, cecchiamo questa opzione che ci permette di fare in modo che le partizioni vengano montate per poter essere modificate nel momento in cui andiamo ad installare il file. Toccando sulla conferma, vedete, ritorniamo in questa schermata con nuove schede, le istruzioni, poi abbiamo flash zip o over there che abbiamo già visto, poi abbiamo everroot, qua avremo la possibilità di reinserire il pacchetto super user nel momento in cui andiamo ad installare la nostra modifica, in questo caso non è necessario perché non andiamo a modificare questa parte del sistema. Possiamo poi ceccare questa voce, enable ADB, che permette appunto di fare in modo che a riavvio il sistema richieda nuovamente la concessione dei permessi di ADB, ma è una voce di secondo piano. Poi abbiamo la possibilità di disabilitare il setup wizard, caso mai andassimo a flashare una ROM per esempio, e poi abbiamo questa voce, preserve recovery. Come vi ho detto, viene caricata una recovery temporanea e poi viene cancellata. Andando a toccare questa voce, diciamo che tutta l'applicazione cerca in qualche modo di mantenere la recovery già installata e non di andarla a sovrascrivere con quella che viene utilizzata dall'applicazione. Ecco, vi consiglio di non andare a ceccare questa voce, perché tutte le volte che l'ho fatto sono andato in bootloop. E poi abbiamo la possibilità di scegliere il reboot dopo l'installazione del file, quindi normale recovery, download e bootloader. Andiamo a chiudere e poi premiamo sulla nostra bella iconcina con il fulmine per effettuare il flash. Ok. Vedete che il dispositivo non si è ancora riavviato, adesso siamo entrati in schermo intero. Questi sono tutti i file di sistema che vengono caricati, grosso modo come funziona in una qualsiasi recovery. Vedete che questa è in realtà la stessa schermata che siamo abituati a vedere su una recovery e il flash è andato a buon fine. Ora il Nexus si sta riavviando. Eccoci qua, avvio di Android e vedete che l'orologio è stato messo al centro. Ecco, non vi avevo detto a cosa serviva la moda, serviva proprio a questa, poter mettere l'orologio posizionato al centro della status bar. Riavvio un attimo l'applicazione perché vi voglio far vedere che è possibile andare a flashare degli zip che supportano, che fanno uso dell'aroma installer. E vi faccio subito vedere cosa intendo. Proviamo con questa mod, che è una mod che molti di voi immagino conosceranno. È una mod per l'audio. Ok. Verrà ora avviata, ecco avete visto, la recovery temporanea. Come avrete notato anche, forse velocemente, si tratta della TWRP, Team Win Recovery Project, ed eccoci in Aroma Installer. Giusto per farvi vedere che comunque anche i flash degli zip che fanno uso di Aroma Installer sono supportati e funzionano completamente bene. Bene, cosa dire di questa recovery? Come troverete scritto anche nell'articolo correlato di questa recovery, scusate, di questa applicazione. Come troverete scritto nell'articolo correlato? Ho fatto alcune altre prove, purtroppo non sono andate a buon fine. In particolare non sono andate a buon fine le prove che ho effettuato sull'installazione dei kernel. Ne ho provati due e non hanno funzionato. Invece ho provato ad installare da ROM Euphoria ed ha funzionato davvero come avessi installato normalmente tramite recovery. Quindi vi consiglio per il momento di fare attenzione ad utilizzare questa applicazione, di utilizzarla solo se sapete eventualmente cavarvi fuori dai pasticci qualora si verificassero e avrete buone possibilità. Ora non voglio spaventarvi però è un'applicazione in beta ed è un'applicazione che va veramente a toccare degli aspetti un po' complessi, a modificare il sistema. Quindi se non siete pratici è meglio lasciar perdere, almeno fin quando non verranno rilasciate versioni più stabili. Potete però magari utilizzarla per il backup, sì questo funziona decisamente bene e vi permette comunque di, adesso andiamo anche a provarne a fare uno, vi permette di avere una certa sicurezza almeno da questo punto di vista. Poi il backup che avete creato potete salvarvelo sul computer e tenerlo lì casomai vi servisse in un futuro. Adesso vediamo anche se va a buon fine questa procedura, dovrebbe riuscirci. Ok, sempre il solito caricamento. E qui abbiamo creato il backup e vedete che il Nexus in questo momento si sta riavviando. Bene, direi che abbiamo visto più o meno tutto. Se avete domande non esitate a porcele attraverso i commenti di questo video oppure nell'articolo correlato che trovate su blog. Ah, ultima cosa, dimenticavo, ho provato con Multi-ROM Manager, non funziona. Non c'è modo di utilizzarlo per il momento con Multi-ROM, purtroppo ho decisamente dovuto ripristinare il dispositivo e anche fare un factory reset perché non veniva più riconosciuta correttamente la memoria interna. Quindi vi sconsiglio completamente l'utilizzo di questa applicazione se state già utilizzando Multi-ROM Manager. Per il momento è tutto, davvero tutto. Un saluto da Matteo per TuttoAndroid.net